Ciao a tutti gli amici del nostro canale. Oggi vi porteremo nelle emozioni forti di Amici. Il talent show più amato d'Italia. Abbiamo visto una performance davvero toccante che ha fatto versare lacrime a tutti. Compresa Maria De Filippi ed Emma. Restate con noi per scoprire di più. In questa edizione di Amici, New è uno dei talenti più straordinari. Ha incantato tutti con la sua esibizione su una delle canzoni più toccanti di Elisa. Anche fragile. La sua voce è stata davvero da pelle d'oca. E il pubblico, insieme a noi, è rimasto senza parole. Maria De Filippi ed Emma non sono state da meno. Si sono commosse mentre Miu cantava con gli occhi lucidi. Emma le ha dato un prezioso consiglio. Libera le tue fragilità. Un momento di grande empatia che dimostra quanto sia speciale il rapporto tra gli allievi e i giudici in questa edizione di Amici. Se siete appassionati di Amici e volete rimanere aggiornati sulle ultime emozioni e performance del talent show, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche. Condividiamo con voi i momenti più emozionanti e i retroscena di Amici. Quindi unitevi alla nostra community. Iscrivetevi ora!